Cantucci, cantuccini, tozzetti, biscotti di prato, stozze, tagliancozzi. La ricetta è uguale per tutti e può cambiare solo l'ingredente. Avere all'interno o le mandorle o le nocciole, anche se all'atto della sua nascita, non aveva nessuna frutta secca. Parliamo del biscotto più conosciuto d'Italia. Oggi farò i tozzetti con le nocciole di Valerano. Come avete capito da quello che vi ho rincato prima, in pratica lo stesso biscotto. In questo caso qui all'interno ci saranno le nocciole di Valerano, perché la nocciola di Valerano, o più comunemente la nocciola romana, è una DOP. Oltre ad avere la nocciola Gentile Piemonte e la nocciola di Giffoni, che sono due IGP, io fino a poco tempo fa non sapevo che esisteva anche una DOP per la nocciola romana, anche perché viene allevata da una parte della Tuscia, ovvero dell'Alto Viterbese. Ma per la storia e tutto il resto, io vi do appuntamento alla fine del video. Quindi noi ci adesso ci vediamo, ingredienti e ricetta. E per chi mi viene a trovare oggi per la prima volta, gli consiglio di iscriversi e cliccando la campanella di sotto rimarrà aggiornato sulle prossime ricette. E ci vediamo dopo! Cominciamo a tritare la metà delle nocciole all'interno di un tritadutto. Mi raccomando, tritatele finemente. In una ciotola mettete le tre uova e lo zucchero e con una frusta montatele velocemente finché non diventano chiare e spumose, poi aggiungete l'olio, il limone e la mezza bustina di lievito. Quando si è tutto amalgamato mettete poco per volta le nocciole tritate e la farina. E continuate a montare fino a quando non è tutto incorporato. Infarinate il piano di lavoro e metteteci l'impasto preparato. ed impastate energicamente il composto. Poi, poco per volta, metteteci le nocciole intere e continuate ad impastare. Una volta fatto, tagliatelo in tre parti e ricavatene tre palline. Poi, stendetele formando dei piccoli finoncini, schiacciandoli nella parte superiore per farli diventare rettangolari. Infine, spennellateli con l'albume d'uovo. Una volta sfornati, lasciateli intiepitire per l'albume d'uovo. per almeno una mezz'ora, dopodiché tagliateli in diagonale. Una volta fatto, rimetteteli in forno sempre a 180 gradi per 5-7 minuti, per asciugarli. Ed ora, godetevi i vostri tozzetti. L'origine dei cantucci risale addirittura al 1690. Premetto che allora la ricetta non prevedeva alcuna frutta secca. Viene descritta nel dizionario dell'Accademia della Crusca e il suo nome, Cantuccio, deriva da Cantellus, che significa pezzo di pane. La frutta secca viene inserita soltanto in un secondo momento, verso il XIX secolo. La ricetta che noi oggi conosciamo fu messa a punto da Antonio Mattei, un pasticcere di prato. Infatti, ancora oggi esiste la sua bottega, che è chiamata la bottega della mattonella o comunque dei cantucci, dove lui è depositario della ricetta tradizionale. Questo biscotto poi ebbe così tanto successo che ci furono diverse varianti in giro per l'Italia, soprattutto nel centro-sud. Io, parlando qui del Lazio, ho voluto davolutamente fare appunto i tozzetti, perché così vengono chiamati, dove se i cantucci in Toscana vengono accompagnati con il vinsanto, qui a Roma o i castelli romani vengono accompagnati con la romanella, che sarebbe un vino dolce frizzante. La caratteristica che li differenzia dai cantucci toscani è soltanto il discorso di aver messo dentro la nocciola e, tra parentesi, come vi ho detto all'inizio del video, hanno ricevuto anche la dicitura DOP per la nocciola romana. Bene, io sono sicuro che questa sarà una ricetta che vi farete perché, oltre che essere semplice, è veramente buonissima. Come già vi ho detto prima, la potete utilizzare sia per la mattina, per la colazione, ma ancora meglio per il fine pasto. A questo punto lo potete accompagnare con un vino passito o con un vino dolce. Io vi ringrazio per avervi tenuto compagnia fino a questo momento e ci vediamo al prossimo video. Buona giornata a tutti! Ciao! 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 Ciao!